Attenzione ai rave illegali e tutto ciò che potrebbe succedere. Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ, è successo davvero. Hanno scambiato un rave illegale per una fila di pensionati per il tampone. Incredibile, ma vero. Rave illegale a Southend, ma erano solo i pensionati in coda per fare il vaccino. Sì, se ne è parlato di questi rave illegali per causa restrizioni Covid-19, molti, spesso è capitato, anche se ne è sentito parlare durante Capodanno, durante le feste, che si siano riuniti in hotel, in stanze private piuttosto che ville, ma in questo caso è veramente troppo grossa, perché la polizia è stata avvisata e partita a sirene spiegate, lanciata per scovare dopo una spiata questo rave illegale a Southend e invece ha trovato una fila di pensionati lì per ottenere il loro vaccino anti-Covid-19. Tre auto della polizia sono scese venerdì nella sala dell'Essex Freemasons in Aviation Way Southend dopo essere state informate di un rave illegale in corso. Spioni! Ma invece di trovare luci stroboscopiche, musica a palla e gente in delirio o gruppi di adolescenti un po' fuori di testa, gli agenti si sono confrontati con un gran numero di persone ottantenni, ultraottantenni con bastoni da passeggio, alcuni in sedia a rotelle, fuori dall'edificio, in coda per fare il vaccino. La polizia dell'Essex ha confermato di aver assistito a numerose segnalazioni di assembramenti, assembramenti, quanto avrà stancato sta parola da 1 a 10, e di numerose persone segnalate davanti a un centro di vaccinazione. Ma già te, se c'è gente davanti a un centro di vaccinazione, come può essere un rave? Vabbè. Ma Dennis Boone, presidente di Saxon Hall, ha rivelato che quando gli ufficiali si sono presentati lì davanti e si aspettavano di trovare un rave illegale, così come gli avevano spiato, invece si sono trovati davanti questa scena qua. Vedete? Non sembra tanto un pubblico da rave. È stato davvero divertente quando è arrivata la polizia, perché era stata informata che c'era un rave in corso, e invece hanno trovato ottantenni e novantenni con i bastoni, i loro bastoni, pazientemente in coda per le loro vaccinazioni. E avrà pensato, madonna che effetti hanno fatto le pasticche su questi qua? Ha dichiarato inoltre, c'erano vecchi scontrosi, vecchie scontrose, la polizia si è subito resa conto dell'errore, ha offerto assistenza per i problemi del traffico. Questo è tratto dall'Eco, giornale locale, inglese, e tutto questo è accaduto perché il vaccino AstraZeneca era previsto, ma quello Pfizer è arrivato non prima delle 9.30 e non è arrivato in quantità sufficiente. Da qui è iniziata la fila, la congestione, l'assembramento, e poi è peggiorato il tutto quando hanno finito il vaccino e da allora c'è stato proprio il delirio, un'ora di ritardo per ottenere questo famigerato vaccino. Insomma, era un caos assoluto, faceva molto freddo, va freddo da noi, figurati laggiù, e il parcheggio è diventato un blocco di automobilisti di oltre 80 anni. E il portavoce della polizia ha dichiarato che ricevono di continuo segnalazioni su ravi illegali o su comportamenti non adatti al momento della pandemia che infrangono le regole e allora siamo partiti subito, risponderemo, ma in questo caso siamo stati anche disponibili ad aiutare la comunità. Insomma, si sono prodigati per questi poveri anzianotti. Beh, che dire, alle volte non tutte le spiate portano al risultato che ci si aspetta. Devo ricordarvi dei corsi per DJ, corsidjproducer.com potrete fare lezioni e corsi private con il sottoscritto per chi inizia da zero, per chi è a metà o per chi vuole fare il salto di livello. Questo anche per quel che riguarda consulenze private sui vostri problemi, all'hardware, al software o consulenze di base legale per suonare in regola, quindi CI, DJ, online, agibilità, empalze. Contattatemi nella sezione contact compilando il form oppure nella pagina Facebook in privato, mi raccomando, solo per chi ha intenzione di fare lezioni. Per tutto il resto c'è il sito SOS4DJ e con i commenti mettete lì le vostre domande. Oltre alla pagina Facebook troverete la pagina Instagram e la pagina Telegram con i contenuti extra, spoiler, quant'altro. Iscrivetevi e gratis se volete far parte. Canale SOS4DJ, mi raccomando, l'iscrizione per noi è fondamentale per crescere e per farvi crescere anche voi, per mettere sempre a disposizione notizie, tutorial, spoiler e alle volte anche qualche argomento allegro per sorridere come quello di oggi. Attivate la campanella, mettete un like, condividete con i vostri amici se pensate che tutto questo possa essere loro utile. Inoltre puoi sostenerci tramite il tasto PayPal Sostieni SOS4DJ dove puoi offrirci un caffè, una pizza, una cena o tutto quello che vuoi se pensi che tutto questo lavoro gratis valga qualcosa. Eh? Eh? Vi immaginate un bel rave di ottantenni, novantenni al ritmo di mazzurca e del liscio di periferia inglese? Non sarebbe male, potremmo organizzarlo, magari neanche quelli, perché nell'RSA non è che proprio se la passino bene. A parte tutto questo che ci fa sorridere, perché al posto di un rave illegale molto spesso veniamo additati come quelli che si nascondono, che fanno le cose nel sottobosco. In realtà non c'era nessun rave, ma c'era una distribuzione di vaccini. Quindi anche voi spioni, quando fate le spie, fatele quantomeno utili per tutta la comunità. Bene, da parte di SOS4DJ e Claude, una buona giornata. Vi ricordo l'iscrizione al canale importantissima per noi e vi ricordo che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. Piripiri pi!